Il catalogo online della biblioteca della Regione Piemonte si è rinnovato con una nuova grafica e maggiore facilità di accesso al prestito. Tra le nuove possibilità offerte ai lettori c'è la Digital Library, l'edicola digitale che consente l'autoprestita online di molti ebook, non di proprietà della biblioteca ma ad accesso libero e scaricabili. Poi i link ai maggiori siti di news regionali, nazionali e internazionali ed infine il servizio chiedi al bibliotecario per poter richiedere assistenza e informazioni direttamente dal web. Grazie.